Ragazzi, buongiorno. Oggi parliamo di un altro argomento abbastanza complesso, ma proviamo a spiegarlo con parole semplici e renderlo un po' più fruibile a tutti. Allora, parliamo di Fair Play Finanziario UEFA, il Financial Fair Play. Il Financial Fair Play è qualcosa a cui tutte le società devono sottomettersi, quindi non è solo per le società in difficoltà. Allora, vediamo. Quando nasce? Cosa è? A cosa serve? Come funziona? E chi lo ha voluto? E ci sarà una bella sorpresa. Quando nasce? Allora, a settembre del 2009 il Comitato Esecutivo UEFA ha approvato all'Unione di Fair Play Finanziario. Al giugno 2012, invece, sempre lo stesso Comitato Esecutivo UEFA, ha approvato la formazione dell'Organo di Controllo, ossia quello che poi controlla se i bilanci sono a posto. E quindi, dal 2013, è iniziato poi l'applicazione delle regole del Fair Play Finanziario. Cos'è? Sono misure per il benessere generale del calcio. Così è definito proprio nel loro sito. Ma vedete che non è proprio che intendessero qualcosa tipo yoga o qualcosa di benessere fisico. E nemmeno che i soldi crescano se seminati. Ma diciamo che quest'ultimo concetto è un pochettino più vicino alla loro visione. Quali sono le regole? Allora, la disciplina e la razionalità nella finanza dei club. Meno pressione su salari e trasferimenti. Quindi cercare di abbassare i salari e di controllare i trasferimenti. Contare solo sui profitti. Quindi, l'autogestione. Incoraggiare investimenti a lungo termine sul settore giovanile e sulle infrastrutture. Questa è una parte molto interessante del Fair Play. E poi, tutelare le sostenibilità a lungo termine dei club. Perché chiaramente nessuno vuole un calcio con club che falliscono. Ok, ma nel dettaglio? Allora, è impossibile fare un video semplice su tutte le regole che ci sono nel Fair Play Finanziario. C'è un libro che spiega tutte queste cose, che è proprio il regolamento, che è 93 pagine, contiene 74 articoli ed 11 allegati. No. Facciamo qualcosa di più semplice. E poi, l'ultima domanda. Chi è il grande mandante di tutto ciò? Chi è che ha scatenato tutta questa voglia di Fair Play Finanziario? Attenzione, attenzione. È questo soggettino qui, ex juventino. Le intenzioni non erano malvagie. Poi, l'applicazione non è stata un granché, diciamo. Allora, abbiamo capito lo spirito, abbiamo capito le basi, abbiamo capito il mandante. Vediamo cosa devono osservare nella pratica le società di calcio, cioè cosa devono fare in pratica per osservare le regole del Fair Play Finanziario. Le regole principali sono che nelle ultime tre stagioni non ci siano debiti né arretrati né cogenti verso altre società, né dipendenti né autorità. La seconda regola è che si forniscano sempre all'UE informazioni finanziarie che riguardano i futuri piani di investimento, quindi che l'UE abbia visibilità su come spenderanno i soldi i club. E poi, quella più ovvia, ma che è quella che poi ci preoccupa di più, è che vi sia sempre il pareggio di bilancio, o perlomeno un intorno di pareggio. Le società possono investire tanto quanto consentono i ricavi, quindi presi quei ricavi si può investire in costi. Allora, attenzione che questi concetti li abbiamo spiegati nell'altro video, quindi se volete vedere l'altro video, per poter rinfrescare questo discorso sui costi e sui ricavi, vi rimando a quel video. Allora, abbiamo sentito che sono importanti le plus valenze, mi spieghi che cosa sono? Allora, l'organo di controllo del Fair Play Finanziario verifica che nelle ultime tre stagioni i tuoi ricavi siano superiori ai costi, e questo l'abbiamo già detto. Allora, nei ricavi, oltre ai biglietti, diritti tv, l'avete visto dall'altro video, ci sono tante cose che determinano la somma dei ricavi, ma ci sono anche le famigerate plus valenze. La plus valenza è la quantità di denaro in più che io ricavo dalla vendita di un giocatore rispetto al suo valore finanziario al momento della vendita, ossia quanto mi costa in quel momento a bilancio. Fammi un esempio. Allora, noi l'anno scorso abbiamo comperato Pippo a 10 euro e gli faccio un contratto di 5 anni, diciamo. Il valore del giocatore come cartellino è di 10 euro, quindi in quel momento mi pesa come 10 euro, cioè il mio valore è 10 euro. Se lo rivendessi subito dovrei perlomeno coprire quei 10 euro, ma il suo costo, perché un conto è il valore del cartellino, un conto sono i costi, lo posso dividere e spalmare su 5 stagioni, quindi quest'anno mi costa solo 2 euro. 10 diviso 5, 2 euro. Il passo successivo è, dopo un anno, oggi, lo rivendo e lo vendo a 12 euro, quindi il suo valore a bilancio è diventato di 8 euro, perché io ho spalmato già i 2 euro, ho smaltito già i 2 euro l'anno passato, quindi da 10 euro è passato a 8 euro. Lo rivendo a 12 euro, quindi 8 euro è il suo valore attuale, 12 il suo ricavo dalla vendita, il mio guadagno, quindi quello che io posso assommare ai miei ricavi, è 4 euro, e quindi è la mia plusvalenza. E se infrangiamo le regole? Se nelle ultime 3 stagioni i tuoi bilanci sono stati sempre negativi, i tuoi costi, cioè, ossia che i tuoi costi sono stati sempre superiori ai ricavi, di un valore deciso dall'UEFA, hai infranto le regole. L'organo di controllo finanziario dei club decide le eventuali sanzioni, di base via un approccio non punitivo, e soprattutto votata a procedere step by step, cioè, cercano di fare buoni, ma non siamo molto sicuri, vediamo se è vero. Che succede in pratica? Dipende da quando l'infrazione in cui siamo in corsi è pesante, quindi se è molto leggera viene fatto solo un avvertimento, una diffida. Se è leggera, ma non molto leggera, allora viene praticata una multa da parte dell'UEFA. Se abbiamo fatto un'infrazione, insomma, un pochettino più importante, tutti i ricavi che sono stati ottenuti dalle partecipazioni alle competizioni UEFA vengono decurtati, diciamo, una parte o tutti, questo lo decide sempre l'organo di controllo. Se abbiamo fatto una grave infrazione, perché magari abbiamo sforato di tanti milioni nel bilancio, magari non si possono iscrivere nuovi calciatori nell'UEFA. Vi ricordate che l'Inter non poteva iscrivere 25 calciatori, ma solo 21? Perché? Perché c'era questo tipo di infrazione. E quindi la, diciamo, la sanzione combinata dall'UEFA era di questo tipo. Se addirittura facciamo un'infrazione gravissima, quindi abbiamo fatto, abbiamo speso, i nostri soldi in maniera non idonea, si può arrivare fino all'esclusione della competizione UEFA, quello che, per esempio, quest'anno, per ora, è successo al Manchester City. Dice, allora sono fregato. No. Prima di giungere una sanzione definitiva, c'è la possibilità di soscrivere il cosiddetto setman agreement, o quest'altra parolina che abbiamo sentito tante volte e che magari non riusciamo a capire che cos'è. Che cos'è? È un patteggiamento. L'UEFA dice, ah, ti sanziono. Però aspetta, facciamo un patteggiamento, ci mettiamo giù a tavolino, ci mettiamo d'accordo su come deve rientrare, questo lo devi fare così, questo lo devi fare cos'è, i tempi, i modi, i paletti, e diciamo che si trova una quadra. Ecco, come vedete, io ho messo un emoticon, c'è una soluzione un po' alla vola emoce bene. E quindi niente, questo è l'argomento che abbiamo trattato oggi. Spero che questa piccola presentazione vi abbia un po' chiarito le idee su qualche... Magari conoscevate già tutto e già era chiaro. Però magari per quelle persone che non avevano chiari certi passaggi e perché, per come nascono queste regole, io spero che sia stato un video interessante e un video utile. Vi ringrazio, ciao a tutti!